Ciao, sono Laura e questo è Voices from around the world. In questo spazio vi racconto alcune storie dal mondo attraverso le voci dei loro protagonisti. La voce di oggi è quella di Zipa, dall'India, responsabile del Balashanti Program. Si tratta di un programma che aiuta a accogliere i bambini più bisognosi e vulnerabili, di un'età compresa tra i 3 e i 5 anni. Molti di questi sono figli di Madrisole, che a causa della situazione di abbandono e di povertà in cui si trovano, faticano a crescere i loro bambini in una condizione di benessere e di salute. Inoltre, dopo 40 anni, ho sento la stagione delle stagioni in una famiglia di famiglia. Inoltre, i bambini in una famiglia di famiglia di famiglia in una famiglia di famiglia sono experiencingo il triple peso di bambini, la scuola, la scuola e la scuola di bambini. Quando ho iniziato questo programma, ho cercato a legge molti bambini in una famiglia di supporto di distanza programma, così che non si senti soli e che si senti supporto per assicurare l'uomo e il benessere dei bambini. Concretamente, quindi, cos'è che il Bala Shanti programma fa per i bambini e le loro famiglie? E quanti bambini avete aiutato fino ad oggi? Il nostro programma è disegnato per dare un sviluppo holistico per i bambini, quindi si concentrano sulla salute, l'educazione, la nutrizione, l'educazione e l'educazione. Negli ultimi 30 anni, 10.000 di bambini hanno graduato dal nostro Bala Shanti programma. Secondo un report delle Nazioni Unite del 2019-2020, il 4,5% delle famiglie in India è portato avanti da madri sole, che si trovano in questa condizione non per scelta personale, ma perché abbandonate. Si stiva che il 38% di queste vive in uno stato di povertà. Il Bala Shanti programma cerca di aiutare sia le madri sia i loro figli, offrendo loro ciò di cui hanno bisogno. Grazie a tutti. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è stato gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è stato gratuito A volte ho fatto i nostri aiuti non si sono fermati Anzi, sono stati aiutati nei modi che erano permessi 15,000 tra bambini e i loro genitori The situation of the children in the vulnerable families are further compounded. Many of their parents lost their jobs and loss of livelihood has been most significant in the formal sectors of employment. And this has a direct and consequential effect on vulnerable children and women. Due to the second wave of pandemic, the same situation is continuing. Our children are out of school for one more year. And in this story, Deepa and Arish, like Silvio in the previous video, have demonstrated how, from a difficult situation, it is possible to become people who help others to get out of a complicated situation. Thank you for telling us your stories through your voice. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.